Ancora violenza qui in piazza Bellini, la scorsa notte due risse e tre ragazzi feriti, insomma ci vorrebbero maggiori controlli la rivolta non solo dei residenti ma anche degli operatori che ogni giorno sono costretti a ripulire la zona dai bagordi della sera precedente. E questo è sempre qua, purtroppo qua c'è troppo consumo di alcol la sera, la mattina qua sono tutti ubriachi, tutti i colleghi qua che lavorano tolgono migliaia e migliaia di bottiglie di birra, che bottiglie di birra non si potrebbero vendere quelle in vetro, però qua nessuno che viene a controllare viene a dire a questi signori dei bar qua che lavorano che non dovrebbero venderlo, quindi non c'è controllo e i giovani fanno quello che vogliono. La sera si sporca, si beve alcol, si fuma, ci sono le risse e voi il giorno dopo siete costretti a fare gli straordinari? A far pulire tutti i giorni, migliaia e migliaia di bottiglie è uno schifo, la mattina gli fa la pipì, gli vomica, la cacca, tutte le mattine è questo, poi ci sono le mure, le greche, tutte le bottiglie, buste, è uno schifo. Ma fatte le violenze, c'è la triccia così in Napoli, non la triccia da me, o la magistratura, loro non avrebbero questi problemi, non potremmo rinuncio. Secondo lei ci vorrebbero maggiori controlli? Sì, l'oggetto ci vorrebbero maggiori controlli. Le responsabilità maggiori di chi sono? Le responsabilità maggiori di chi sono? Non le popole, le popole sono proprio amici, la responsabilità non è la nostra. C'è chi dice che sono i giovani? Sì, ma saranno pure i giovani, ma chi è controllo? Una pattuglia fissa della polizia, dei carabinieri, fissa qua in mezzo, per controllare la movita che c'è qua in mezzo. Anche perché ogni settimana si verificano episodi di violenza? Come dice lei, ogni settimana ci sono episodi di violenza, perché non si mette una pattuglia fissa qua in mezzo? Significa che proprio ci manca, è proprio il fulcro proprio, manca di tutto.